Ciao Michele, faccio i concreti, sono il salutatore, aspetta ma siamo sfocati, mettiamoci qua le luci, eccoci qua Michele, qui o meno, aspetta facciamo la magia, 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 ecco, abbiamo trovato la luce, lasciamo tutto quanto, non tagliamo, allora Michele, io intanto faccio i concreti, questo bellissimo premio, facciandone vedere, bello, 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 cioè Renato Lascia è veramente il top del top, complimenti, prego, meritati e ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono da sempre, ma ci sono, ci sono e aumenteranno sempre di più, saluto tutti i, come si dice, telespettatori, no, videospettatori, dai videospettatori del salutatore? No, no, i tuoi, a chi viene? I nostri, i nostri, insomma, i nostri, a tutti quanti, mando un bel abbraccio e un bel bacio qua al Teatro Brancaccio di Roma. Ecco, grande Renato Lascia e ti regalo la manina del salutatore, ecco qua, ciao, complimenti, ciao, grazie, a te.